Alpignano, numero uno Traversi, due Rossano, tre Calpiero, quattro Berriani, cinque Miceli, sei Curri, sette Donadio, otto Amorosi, nove Letta, dieci Fiocchilanti, undici Caputti, l'allenatore signor Gianluca Baseggio, in divisa bianca Prodeco Calcio Montebellona, numero uno Passo, due Mazzarotto, tre Cappelletto, quattro Tessariola, cinque Mussolini, sei Marrovi, sette Donadio, otto Signori, nove Letta, dieci Fiocchilanti, undici Caputti, l'allenatore signor Angelo Bertucci, arbitra la partita signora Pissolo, a tutti in cui buon divertimento Appartimento e Fortamonte!